Giulio, questa volta è per una vittoria di stage, perché ti chiedi tanto quando passi la linea e dopo? Sì, mi chiedi perché mi senti libero da due anni di frustrazione, dopo aver vinto la mia prima stage a Giro, e ci ha avuto un po' di tutto oggi, la piazza, il sole, e Jan Hier non voleva collaborare con te. Sì, era un po' di nervi tra noi, perché non voleva collaborare, ma è bene così. Un'altra buona giornata per te, con il tempo che hai avuto da Roglic, un altro buon giorno per te, con il tempo che hai avuto da Roglic? La verità è che oggi è un giorno molto complicato, soprattutto per il clima e per molti metri di risposta, ma io credo che con l'equipo è molto bene, ha sempre stato guardato di me e di Miquel, e al final ci ha avuto un giorno molto buono, con gananze di alcuni secondi per la classificazione. Sì, è stato un giorno complicato perché delle condizioni climatiche, e di un po' di risposta oggi, ma siamo felici con il tempo che abbiamo avuto da Roglic. «chi ambientali mi tutte,chedule,